Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio condividere con voi una riflessione che ho fatto negli ultimi tempi riguardo ai social. Non so se questo discorso porterà a una conclusione, porterà a una risposta definitiva, probabilmente no. Però ho piacere di condividere con voi questo mio pensiero in modo che possiate aiutarmi anche a rifletterci su attraverso i vostri commenti che molto spesso mi aiutano tantissimo a ripensare a delle cose sulle quali avevo già un opinione e da una prospettiva completamente diversa. Quindi mi raccomando, fate il vostro dovere. Allora, la riflessione riguarda questo. Allora, io mi sono resa conto che in alcuni periodi, diciamo, alterno un rapporto di amore e odio con i social network. Ora, dal mio punto di vista i social che uso di più sono ovviamente YouTube, sul quale mi vedete adesso. Uso la mia pagina Facebook dedicata a un buon libro, una tazza di te, quindi ai libri nel quale condivido insomma foto e video. E ovviamente Instagram, che è diventata un'applicazione, un social che uso moltissimo, nel quale entro molto spesso. Appunto, alterno dei comportamenti di amore e odio. Nel senso che passo dei periodi in cui sono motivatissima nel cercare di portare nuovi contenuti sul canale o sui vari social. Quindi faccio video, faccio storie, cerco di essere più presente e più costante nella mia proposta di argomenti, per l'appunto. E anzi, a volte mi dispiaccio se il canale o Instagram crescono così lentamente, proprio perché mi sembra di metterci anche il giusto impegno. Però, allo stesso tempo, ci sono dei periodi in cui mi allontano drasticamente perché mi sembra tutto molto futile. Mi capita per l'appunto di pensare tanto tanto YouTube, perché mi piace girare video, mi piace parlare. Però ci sono dei momenti in cui, soprattutto adesso che ho cambiato l'algoritmo e per un periodo non sono stata molto costante nel pubblicare video, mi rendo conto che i miei video vengono visti in meno che in passato. Quindi, nonostante l'impegno è cresciuto e sta crescendo molto lentamente, quindi a volte mi sembra inutile anche dedicargli del tempo. E allo stesso tempo, su Instagram, il fenomeno del follow-unfollow è qualcosa che è veramente fastidioso. Ed io trascorro delle settimane intere a non veder mai modificare il numero dei miei follower, per l'appunto perché sono continuamente seguita e poi non più seguita da alcune persone. E il fatto che questo sia frustrante da una parte per me mi spaventa e quindi cerco di distaccarmi per paura di rimanere un po' risucchiata dal mondo dei social. Dico questo perché mi capita ovviamente di seguire persone che ci tengono molto, moltissimo i numeri che raggiungono sui social, quindi alle visualizzazioni, agli utenti e così via, persone che stressano i loro follower quando hanno pubblicato un video dicendo l'avete visto? L'ho riuscita a vedere? Perché non riuscite a vederlo? Mio Dio! Cose così, oppure avete visto questa foto? Quanti di voi la vedono? Mettete mi piace se l'avete vista così mi accorgo quanti di voi la vedono. Penso che se dovessi vivere così probabilmente mi sparerei perché proprio non ce la potrei fare. E' anche vero che questo è un nuovo lavoro, tra virgolette, quindi l'aspirazione dei comuni mortali, di noi persone comuni, di diventare famose condividendo soltanto la propria vita. Quindi ci sono persone che sono diventate famose perché condividevano trucchetti per racconciarsi i capelli, trucchi che compravano, vestiti che compravano e quasi nient'altro, e esperienze di vita. Quindi mi sono resa conto che questo è diventato un po' il sogno comune, l'essere riconosciuti per strada, l'essere fotografati, l'essere imitati, l'essere al centro dell'attenzione di persone che non ci hanno mai visto e per cosa? Perché noi ci mettiamo davanti a uno schermo e facciamo vedere la nostra esistenza, la nostra quotidianità. Questo ovviamente è quello che mi spaventa in dei momenti, quindi dei momenti in cui condivido tranquillamente le cose che mi succedono, ma allo stesso tempo passo dei momenti in cui mi spavento di quello che vorrei condividere. Per due motivi principalmente. Il primo è che mi faccio alcune domande, come per esempio amo essere al centro dell'attenzione? Perché ho bisogno che le persone vedano quello che io faccio? Voglio suscitare invidia negli altri? E voi pensate che siano domande magari stupide, ma dobbiamo farcene perché a volte è qualcosa che non controlliamo o comunque che non ci rendiamo nemmeno conto di fare. E l'altra cosa che mi preoccupa è il fatto di dire riesco a dare valore a qualcosa se non lo condivido e anche questo mi spaventa. Ma quando dico mi spaventa non lo dico perché sono spaventata io in prima persona perché mi accorgo di vivere in questa maniera, no. È che ho paura di diventare così. Ho paura che un evento bello della mia vita privato non sia vissuto appieno se non lo condivido con gli altri. Non vorrei mai che questo accadesse. Questo perché? Perché voglio essere capace di apprezzare la mia quotidianità senza doverla per forza mostrare agli altri e farmi dire brava, come sei fortunata o wow quanto ti invidio. Ecco, sono cose di cui io non ho bisogno e non voglio aver bisogno in futuro. Ecco perché quindi quando attraverso questi periodi in cui mi stacco un pochino dai social mi serve per ripulirmi, per dire no a fermi non voglio andare in quella strada, voglio rimanere più semplice e più autentica possibile. Quindi questo però non mi salverà o non mi salva obbligatoriamente nel senso che potrebbe accadere a tutti di arrivare ad essere un po' troppo dipendenti dai social. Capisco che il sogno di essere famosi è qualcosa che quasi tutti hanno, nel senso che è ovvio vediamo i cantanti, gli attori, non so, le persone che noi seguiamo, quelle proprio famose che appunto vengono fermate per strada, vengono imitate, vengono osannate, persone che piangono quando le incontrano. Insomma, è ovvio che sarebbe bello vivere una vita così, vivere una vita con i paparazzi che ci inseguono e essere invitati nelle trasmissioni, poter parlare, poter essere intervistati, essere al centro dell'attenzione. Ed è proprio questa la riflessione base che mi è venuta, ovvero oggi è importante essere egocentrici, cioè noi al centro di tutto. Quindi essere noi guardati dagli altri come dei fenomeni da baraccone ma che vengono guardati insomma con occhi di ammirazione. Voi cosa pensate di questo? Nel senso, secondo voi è così? Siamo in un mondo dove effettivamente si vuole condividere tutto, c'è l'esistenza delle stories, le stories su Instagram che scompaiono dopo 24 ore. Questo vuol dire cogli l'attimo, condividi tutta la tua vita, condividi gli attimi della tua vita quotidiana perché gli altri li vedano e li vedano subito e non si perdono niente di te. A volte questo mi mette un po' di pressione, mi sembra di essere schiacciata dall'obbligo di condividere le cose perché appunto è questo che adesso i social ci richiedono. Ecco, io posso dire sicuramente di cercare sempre, cercherò sempre di comportarmi nella maniera migliore possibile, cioè non voglio ne essere una di quelle che odia i social quindi non li usa, non li considera dannosi o che insomma li considera il demonio. Ecco, questo assolutamente no, ma allo stesso tempo non voglio dipendere da questi. Non voglio, non vorrò, spero di non farlo mai, condividere ogni attimo della mia vita perché ci sono delle cose che amo vivere in privato. Una su queste è stato l'inizio del nostro percorso di adozione, io ho cominciato a parlarmi molto dopo aver cominciato perché abbiamo affrontato delle cose che ho voluto vivere da sola, affrontare da sola, ma non perché fosse sbagliato condividerne con qualcuno perché qualcuno mi avrebbe giudicata. No, però non voglio appunto, non ho voluto che questa diventasse la normalità, fare in modo che tutti gli altri vedano quello che faccio. Poi è ovvio, un giorno spero di essere fermata per strada perché ho scritto il libro più bello degli ultimi tempi e allora tutti vorranno farsi una foto con me perché hanno letto le mie parole, però insomma in quel caso sarebbe un tipo di fama completamente diverso, derivante da un'arte che io adoro e sulla quale sto lavorando e non soltanto sull'aver fatto vedere la mia casa o le cose che ho comprato. Questo non toglie che ovviamente sia anche utile di condividere delle cose sui social, io per esempio ho scoperto tantissimi siti ecosolidali che mi hanno aperto un mondo, ho conosciuto persone meravigliose che ogni giorno mi scrivono su Instagram e delle parole dolcissime con le quali ci scambiamo opinioni, idee, aneddoti in maniera veramente amichevole. Questo è meraviglioso il modo in cui i social ci hanno avvicinati. Io ho solo paura del troppo, perché il troppo stroppia, no? Si dice. Vabbè, io direi di finire qui il mio monologo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate perché sono veramente curiosa, anzi spero che in tanti vi rispondiate perché credo sia un argomento sul quale vale la pena riflettere un po'. E basta, adesso io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!